Il tournè da bar è un progetto culturale che porta i grandi classici del teatro al bar, bar, circoli, locali notturni, ossia luoghi della quotidianità. L'idea è di riportare la cultura e soprattutto il teatro e l'arte scenica in mezzo alla gente, in mezzo alle persone per far appassionare nuovamente quante più persone possibili al teatro. Mi sono trovato con uno spettacolo mio, ho fatto una lunga tournè nella quale passando tanto tempo in camerino ho scritto uno spettacolo e poi non sapevo dove andare a mettere in scena questo spettacolo. Per cui una sera ero con degli amici all'interno di un bar e gli stavo raccontando di che cosa parlava il mio spettacolo e della difficoltà nel portarlo in giro e trovare un posto dove rappresentarlo. Complice il casino che c'era al bar e qualche birra di troppo mi sono trovato alla fine in piedi sul tavolino a declamare i versi dello spettacolo dicendo dove lo posso mettere in scena. La cosa che successe è che mi sono trovato a certo punto che c'era il bar totalmente in silenzio e è partito un applauso. Quell'applauso ha fatto sì che si accendesse una lampadina nella mia testa e da lì ho detto che ho capito forse dove c'è un luogo in cui ci sono delle persone quantomeno disposte ad ascoltare la mia storia. Ostello Bello ci ospita dalla prima edizione, si è consolidato un rapporto di stima e fiducia reciproca e devo dire che a me è quello che piaceva tutte le volte quando sono venuto qua, anzi mi ricordo la prima volta per fissare la data, è che ho avuto una strana duplice sensazione, da un lato ho detto wow che figo perché dopo aver girato viaggiato un po' ho detto cazzo finalmente non mi sembra di stare a Milano e poi ho detto invece che bello, l'altra parte mi sembra proprio di stare a Milano e come vorrei che Milano diventasse, cioè l'internalizzazione di Milano di cui tanto si parla secondo me è questa cosa qui, è fatta nel modo giusto, è bella, c'è uno spirito che è quello che mi rappresenta e mi piace, per cui dal fatto di dire non mi sembra di essere a Milano ho detto no sono felice di essere a Milano perché sono all'ostello Bello